Sono iniziate in Piazza Duomo all'Aquila le operazioni di montaggio della imponente gru che verrà sistemata all'interno della cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio. Alla direzione lavori per conto del segretariato, Miche l'architetto Augusto Cicciotti. Uno dei cantieri più attesi dalla comunità aquilana, sicuramente è un bene religioso e culturale che necessita di interventi particolari ed estesi. In queste prime attività stiamo allestendo e montando una gru di grandi dimensioni, alta 48 metri con un braccio da 65 metri che verrà posizionata all'interno di un cortile del Bescovado e che servirà le lavorazioni della chiesa. La durata dell'intervento? Al momento abbiamo contrattualizzato il primo stralcio, è prevista una durata di 900 giorni. A seguire, al momento della decretazione dell'ulteriore finanziamento, potremo dare continuo al secondo stralcio che riguarderà l'Aula della Chiesa. I lavori sono partiti circa un mese fa, ma oggi finalmente siamo riusciti a portare in piazza questa gru, che è una gru alta 50 metri con 60 metri di braccio e la gru che potrà soddisfare tutto il fabbisogno del cantiere. Quindi oggi finalmente riusciamo a mettere a fuoco quanto sia importante il lavoro che stiamo svolgendo qui al Duomo. Quattro si è arrivata a passare.